Buongiorno a tutti, ben trovati con la nostra rassegna stampa. Come ogni mattina procediamo con la lettura dei quotidiani sia locali che nazionali. Iniziamo dal quotidiano del Molise. Le fiaccole riaccendono la memoria e per il risarcimento delle vittime e barbieri incontrerà il sottosegretario Baretta. San Giuliano di Puglia, veglia di preghiera sabato sera in onore dei 27 angeli. Politica, EGAM, parere positivo dal Ministero dell'Ambiente, soddisfatti il Presidente della Regione Fratture, l'Assessore Nagni. Sanità, medici, cambi all'orario, ospedali a rischio, in Regione si farà fatica ad organizzare i nuovi turni di lavoro. Economia, industrie, la CISL cresce, il divario, Nord-Sud, l'analisi di Michele Zannocco della Fim CISL. Sesto Campano, Frana, Isola, una contrada, l'appello dei cittadini chiedono alla Regione di reperire fondi e appaltare subito i lavori. Come ogni lunedì ampio spazio allo Sport, Domenica Mara per il Campobasso che ripiomba nel buio pesto a Castelfidardo, la quinta sconfitta in dieci gare, Cappellacci a rischio, la società riflette. Perdono anche Sernia e Agnone, Pentri, K.O. Aiesi, Granata con la Miternina. Vediamo le altre notizie di Sport. Eccellenza, il Termoli vince di misura, Fraraccio gol, fa volare il Vasto Girardi, Gambatesa ok, colpo del Treppini sul campo della Dauna. Atletica, Andrea Lalli, quattordicesimo alla Maratona di New York, il migliore degli italiani nella prima parte di gara, lotta resta con i big. Bene, vediamo adesso primo piano, Molise. Sanità, il mese delle decisioni sul riordino. A Palazzo Moffa arriva un decreto del commissario Frattura che propone di abrogare il piano approvato con legge. Schema troppo rigido, tavolo tecnico inseduta il 24 novembre. Il presidente dei programmi operativi discuteremo in consiglio. EGAM, il governo dice sì alla riorganizzazione del servizio idrico. Risarcimento, crollo della Iovine. Giovedì, Barbieri incontra a Roma il viceministro all'economia. I Sernia, Mazzette, in cambio di appalti, l'inchiesta Larus fa tremare dirigenti e politici. Venafro, calci e pugni al termine della serata con Rocco Siffredi, 25enne, nei guai. Lupi, l'unica continuità è quella delle delusioni. Sotto in avvio a Castelfidardo, il campo basso non reagisce. Cappellacci rischia l'esonero in giornata, summit societario. Ancora serie D. Domenica Nera per le Pentre, I Sernia, Agnonese, K.O. con Iesina e Amiternina. Promozione, comanda, Guglionesi, Termoli pronto riscatto, il Vasto Girardi non molla. Atletica, Andrea Lalli, primo europeo a New York, ma per Rio non è abbastanza. Si complica la corsa al posto per le Olimpiadi. Abruzzo, Vastese, sempre al comando, San Salvo, ok. Colpo Marina con il Sulmona. Proseguiamo con i quotidiani online. Vediamo innanzitutto futuro Molise. Due novembre, armatori restano in porto, marineria termolese, tradizione più importante delle logiche di consumo. Sabatini, puntare su sicurezza scuola, il direttore ufficio regionale ricorda tragedia di San Giuliano di Puglia. Il Movimento 5 Stelle Molise, cultura, nuove opportunità dall'Europa, workshop gratuito di livello internazionale sui nuovi fondi destinati al settore. Continuiamo con l'altro quotidiano online. Informa Molise. L'istituzione dell'Egam, frattura in Agni, piena approvazione dal Ministero dell'Ambiente. Manuela Cardarelli, nuova presidente di Lega Ambiente Molise. Calcio a 5, con i denti il Venafro conquista i tre punti. Venole a 2015, successo dell'iniziativa, l'evento ha richiamato i lustri studiosi del settore dell'olivicoltura. Scuola bus maggiorato per le famiglie delle frazioni di Sernia, servizio da modificare. Un altro modo di vivere il mondo, il CIP Molise, incontra gli studenti del Sandro Pertini di Campobasso. Proseguiamo con i titoli della stampa nazionale. Iniziamo dal quotidiano Il Tempo. Salvini, Berlusconi parla ma poi decide la Lega. L'intervista, il leader del Carroccio contraddice l'ex cavaliere Marchini, mai confrontati sul candidato a Roma. No a candidati già indagati, lo dice Marino Tronca, arriva in Campidoglio. Il presidente dell'Inps, Boeri, fa due conti sui privilegi e dimezza i vitalizi alla casta. Tutti dinosauri del Parlamento, ma la poltrona è oro, c'è chi se la tiene da 36 anni. La fotonotizia del giorno è dedicata allo sport. Due ex romanisti beffano la Lazio, Bertolacci e Mexes spugnano l'Olimpico contro il Milan primo K.O. stagionale. In casa si parla anche della riforma della RAI, lo slalom di dall'orto tra cause e procure. La Libia attacca l'Italia e disonora i suoi morti. Francesco al verano, il Papa sceglie l'Africa per aprire l'Anno Santo. E nel taglio basso, tutti i silenzi e l'eredità di Pasolini, 40 anni fa, la morte violenta dello scrittore. Proseguiamo con i titoli di oggi del Quotidiano Libero. Vi diciamo quanto prenderete di pensione da oggi in distribuzione le buste arancioni. Anticipiamo le proiezioni degli assegni previdenziali che l'Inps spedisce. Professionisti e autonomi, il reddito cala da 60 a 70%. Graziati statali e dipendenti privati, Boeri smentisce il governo e Sodati, caso aperto, e propone taglie vitalizi sopra gli 80 mila euro. Paolo Del Debbio, da Macellaio Povero, vi dico, sono più comunista di mezzo PD. Mara Carfagna, i miei 40 anni intensi, Berlusconi e le povere femmine di Renzi. Nel taglio basso, scherzetto da Papa a Roma e Giubileo, Bergoglio sposta la sede. Vi racconto il magna magna della cultura di sinistra, i ricordi di Soria, soldi in nero, sbrunze e viaggi. Dal quotidiano libero alla gazzetta del mezzogiorno, qui si parla di Roma, Roma che riparte dal commissario Tronca. Commissario a lavoro, bella sfida, col Papa, il primo impegno, autonomi sulla squadra, i partiti manovrano per il futuro sindaco. Il dopomarino, appena arrivato da Milano, incontro di due ore con il prefetto Gabrielli, un'occhiata alle priorità. Travolti sul marciapiede, lui muore, lei è grave, sciocca Brindisi, 19 anni la vittima, 16 l'amica. L'investitore risultato positivo all'alcol test la notte di Halloween sul rettilineo della folle. Velocità. Nel taglio alto, l'AMI, un'emergenza ai rifiuti ingombranti a Bari, caccia le ditte che smaltiscono in strada. Anas, dopo l'inchiesta, maglie, l'Euca, sottotiro, Blasi, ora vanno fermati gli appalti. Appello del consigliere PD alla regione e i comuni salentini interessati. Vediamo le notizie del taglio basso. Il presidente dell'Inps, Boeri, tagliare 200.000 vitalizi. Le navi italiane sconfinano, elezioni in Turchia, Erdogan torna, padrone assoluto, la Libia accusa, la difesa, falso, devastato, il cimitero a Tripoli. Anche qui c'è lo sport, calcio, Bari, quinto posto, ma un attacco a Varo, la Fiorentina. Tiene il passo, Napoli frena, Milan risorge. Vediamo adesso i titoli del Fatto Quotidiano. Il governo molla la lista dei 101 mafia capitale ed è secretata la relazione sui dirigenti sospetti. Sarà usata in aula. Il PD ha sconfitto e tradito la sinistra, intervista al padre nobile. I turchi incoronano Erdogan, ora il sultano, a tutto il potere maggioranza assoluta al partito di governo. Quando il fanatismo uccise la pace nel 1995, vent'anni fa, l'addio al premier d'Israele. Storia di copertina, quell'italietta, peggio della casta, truffe, truffette furbate, inciuci e connivenze. Il caso dei dipendenti pubblici di Sanremo è solo l'ultimo di tanti scoperti nelle varie inchieste delle procure italiane. FIGICI in crisi, critiche ai brei e ghei tavecchio, ora vada via. E continuiamo con lo sport, leggiamo i titoli di oggi della Gazzetta. L'aggancio è viola, in un tempo quattro gol e primato, Napoli frenato e arrabbiato. A Firenze quattro marcatori diversi col Frosinone davanti a Renzi, a Marassi, Perin salva il Genoa, a Higuain manca un rigore. Lazio battuta 3-1 all'Olimpico, arriva il Mia-Milan, terza vittoria in otto giorni. Rosso-neri a cinque punti dalla vetta con le reti di Bertolacci, Mexes e Bacca. Ok, Pogba, ma serve una svolta Champions, destro e Giaccherini, sì, Donanoni, partenza sprint. Vediamo il taglio basso, gaff su ebrei e ghei tavecchio, nella bufera io vittima di un ricatto, non mi dimetterò, questa la sua dichiarazione. Bene, con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, vi lascio ora alle previsioni del tempo. Arrivederci. Il meteo è offerto da Signora, dico a lei, a conseglie assegni spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa, spendi e risparmi conviene! Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per lunedì 2 novembre. Si rinforza ulteriormente un campo anticiclonico su gran parte dell'Italia, bella giornata di sole in Molise, salvo annuvolamenti al mattino. Attese temperature gradevoli che non subiranno particolari variazioni sia nei valori massimi che nei minimi. Ventilazione debole a tratti moderata dai quadranti settentrionali con mare adriatico generalmente mosso. Vediamo le temperature nel dettaglio. Campobasso minima 6, massima 15 gradi. Isernia minima 8, massima 15 gradi. Termoli minima 13, massima 16 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei. A conseglie assegni spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene! Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Spendi e risparmi di Google